Musica Vivere con una nutria è possibile, per questo motivo abbiamo raggiunto Samuele Venturini, lui dal 2008 vive con un simpatico compagno Willy e ovviamente adesso la famiglia è allargata perché Samuele è anche sposato, sua moglie adora questo castorino ma Samuele la domanda che ci viene è ovviamente spontanea, perché hai deciso di portare a casa tua una nutria, un animale che solitamente viene bistrattato un po' dall'opinione pubblica? Sì, tutto è successo 4 anni fa appunto a causa di un incidente stradale, un mio caro amico era in macchina di notte e mentre percorreva una strada di campagna ha incontrato in mezzo appunto a questa stradina una carcassa di un animale e voleva appunto togliere dalla strada per evitare che altre macchine lo schiacciassero sceso si è accorto che si trattava appunto di una nutria, avvicinatosi a questo corpo ormai esanime si è accorto che qualcosa ancora si muoveva a inizio pensava fosse la coda, gli ultimi riflessi di questa appunto carcassa ma vedendolo da vicino appunto notò la presenza di un cucciolo con ancora il cordone ombelicale attaccato, segno che la mamma nutria ha partorito a causa del botto ricevuto con l'incidente così questo mio amico è corso in macchina, ha preso uno strumento di fortuna, ha tagliato il cordone ombelicale e ha portato con sé, ha salvato quindi la vita questo piccolo cucciolo, l'unico sopravvissuto di tre cuccioli li presenti portato il giorno dopo dal veterinario e fatti tutti i controlli del caso si è pensato appunto di affidarlo a qualche ente o a qualcuno esperto di questi roditori dato che il veterinario appunto non poteva tenerlo nel suo ambulatorio così per varie conoscenze e contatti sono giunti a me che mi occupo appunto da alcuni anni dello studio di questi animali di questi roditori secondo me veramente eccezionali e poco conosciuti e ormai siamo arrivati al quarto anno e lui è veramente adattato alla vita domestica quindi posso confermare quello che succede in Sud America cioè che sono effettivamente, o meglio, possono essere effettivamente animali domestici Ecco, come sono stati i primi giorni di Willy all'interno di un appartamento? All'inizio io ero molto timoroso e anche ansioso perché non sapevo, era la prima volta per me accudire, l'affacciarmi proprio, il toccare con mano questo animale così piccolo è stata un'esperienza molto costruttiva ho imparato molto da lui e secondo me anche lui ha imparato molto dagli esseri umani per così dire il suo peggior nemico che è l'uomo è stato in questo caso anche il suo miglior amico e ho imparato a conoscere questo animale, a dare consigli in ambiti simili perché spesso capita di trovare nutri e ferite lungo le strade e mi ha cresciuto appunto anche culturalmente ma soprattutto a livello emotivo Le abitudini di Willy quali sono? Lui si sveglia al mattino e cosa fa? Allora, Willy essendo una nutria è un animale veramente abitudinario quindi ha tutti i suoi metodi lui si sveglia al mattino con i nostri orari e la prima cosa che vuole intanto ci saluta con il suo versetto la prima cosa quindi che vuole è due biscotti secchi come colazione e poi torna nella sua cuccia che abbiamo visto prima a pranzo e a cena mangia prevalentemente le stesse cose dato che è un erbivoro noi gli diamo un'insalata rossa, radicchio cicorione, finocchi, carote e anche i cereali quelli che vanno bene per conigli e per roditori in generale non disdegna grissini e anche i biscotti per roditori adatti è anche un po' goloso tant'è che ha un po' di ciccia sotto pancia perché gli diamo anche qualche biscotto ogni volta che compie gli anni per esempio o anche ogni mese per ricordare il suo complimese possiamo dire e due volte al giorno il bagnetto e due volte al giorno esattamente fai il bagnetto perché questo? ricordiamo che la nutria è un animale roditore semiacquatico quindi ha molto bisogno del contatto con l'acqua sia per idratarsi e sia per svolgere le proprie funzioni fisiologiche la vasca da bagno in ambito domestico è più che sufficiente per far questo altrimenti lo portiamo in qualche roggia a fare il bagnetto e lui si diverte dobbiamo fare una precisazione essendo Winley comunque un animale di fauna selvatica è possibile tenerlo comunque in casa? allora la nutria per la legge nazionale 157 barra 92 è fauna selvatica italiana perché è naturalizzata cosa vuol dire? vuol dire che da anni passati esistono nuclei, colonie di questi animali che sono stati in grado di autoriprodursi, autosostenersi quando si trova un animale selvatico in difficoltà abbiamo il diritto, anche il dovere morale, di soccorrerlo e lo dobbiamo portare poi a una struttura che sia in grado di prestare le prime cure che può essere un ambulatorio o strutture simili però cosa succede? nel momento in cui noi abbiamo recuperato questo animale dovremmo rimetterlo in natura ma l'immissione in natura di fauna selvatica esotica come la nutria, dato che è originaria del Sud America è configurato come un reato quindi o si chiamano degli organi istituzionali come la polizia provinciale o il corpo forestale che molto probabilmente procederanno con la soppressione perché la nutria, come sappiamo, è oggetto di ordinanze di contenimento anche se spesso queste ordinanze vengono approvate con poco criterio a livello soprattutto scientifico tant'è che le associazioni che ricorrono al TAR spesso vincono i ricorsi proprio appunto per questi motivi e quindi quali sono le possibilità una volta che si è trovato questo animale? o lo si tiene in ambito domestico dato che si adatta bene in questo contesto oppure si chiede a qualche CRAS cioè Centro Recupero Animali Selvatici ma non tutti per esperienza personale sono disponibili a prendere questi animali o se si dovesse avere la possibilità di conoscere un amico o una persona in grado di gestire un agriturismo o un oasi allora lì sì che potrebbe essere la soluzione migliore per entrambe le parti sia da parte dell'uomo che l'ha salvato che per l'animale Quando arrivano a casa vostra degli ospiti degli amici qual è il loro primo impatto con Willy? All'inizio restano molto impressionati dalle dimensioni di questo roditore poi però Anche noi, devo dirlo anche noi però soprattutto i bambini dato che portandolo in giro nel parco viene spesso a contatto con le altre persone la reazione è quella di rimanere impressionati ma a livello appunto positivo proprio perché come mi è capitato in questi anni spesso le persone che passano e vedono Willy dicono ma cos'è una marmotta? una talpa? uno scoiattolo? un coniglio? un cane? un furetto? insomma le dicono tutte poi quando le dico che si tratta di una nutria sono molto colpiti e si avvicinano per proprio vedere effettivamente com'è fatta una nutria da vicino perché spesso la gente le vede sotto le vede uccise dalle macchine in mezzo alla strada e non è certo un bel vedere ma questo per tutti gli altri esseri viventi che vengono feriti e soprattutto ripeto con i bambini dato che ho portato anche Willy alle scuole elementari del mio comune rimangono impressionati e entusiasti tant'è che mi è capitato di sentire dalle insegnanti il giorno dopo che ho portato Willy a scuola hanno chiesto ai genitori di comprare una nutria ma non si fa perché le nutrie in Italia non è possibile allevarle e non sono in vendita questi sono casi di animali selvatici adattati alla vita domestica e questo ricade nella legge nel caso di Willy è dimostrato è presente un fattore affettivo molto forte e questo lo vedono tutti lo vedete voi benissimo tu hai anche creato dal 2009 un'associazione Missione Fa un ambiente di cui vediamo anche il sito internet e la presenza di Willy è anche l'opportunità per te di permettere come già dicevi per i bambini ad altre persone di conoscere questi animali sì ho creato questa associazione una onlus che si occupa appunto di tutela della biodiversità e degli habitat nello specifico ci occupiamo insieme ad altri biologi i miei amici e colleghi e naturalisti di divulgazione scientifica sia nelle scuole che in ambito digitale ormai molto importante internet come strumento di divulgazione scientifica e scrivo articoli collaboro con anche istituzioni e altre associazioni tant'è che appunto anche qua a Bucinasco stiamo facendo un progetto di sperimentazione di contenimento ecologico della nutria mediante sterilizzazione chirurgica delle stesse in esemplari presenti nel nostro comune è molto importante secondo me la divulgazione e di questo animale soprattutto e Willy mi sta dando una grossissima mano in questo perché stiamo sfatando molti miti e leggende quello delle patologie o quello degli argini dell'agricoltura io stesso ho presenziato al primo convegno internazionale sulla nutria tenutosi a Pavia l'anno scorso nel 2011 e per esempio per darvi qualche notizia breve ma importante dalle analisi fatte dagli istituti zooprofilattici la nutria non è considerata un pericolo igienico sanitario è semmai un vettore secondario di leptospirosi ma la percentuale di positività a livello di anticorpi quindi non di batteri che è diversa la situazione è prevalentemente la stessa che si può trovare nell'ambiente in cui essa vive e che presentano gli altri animali selvatici quindi questi sono dati scientifici alla mano danni e impatti all'agricoltura spesso gli agricoltori e altre categorie tendono a ingrandire la richiesta di indennizzo ma le statistiche parlano chiaro la nutria può creare all'incirca o meglio la nutria può influire all'incirca sul 20% del danno all'agricoltura gli animali che impattano di più in questo settore sono quelli comunemente chiamati selvaggina ungulati fagiani lepri conigli quelli che le lobby venatorie rilasciano insomma per la loro attività sempre al convegno è stato dimostrato come i soldi quindi le finanze impiegate per i metodi di contenimento che a tutt'oggi si basano sull'abbattimento o la cattura e comunque il successivo abbattimento siano molto più alti rispetto ai soldi chiesti per l'indennizzo dai danni all'agricoltura la voce più influente perché ci tengo a precisarlo le nutrie come altri animali possono creare impatti a livello di infrastrutture a livello di agricoltura ma ci sono delle condizioni che si devono verificare quali sono la densità di questi animali dovuto soprattutto alla presenza di allevamenti nel castorino allevato appunto per la pelliccia come sappiamo e poi dal degrado ambientale già presente spesso infatti i danni più forti si hanno sugli argini privi di vegetazione oppure poco mantenuti e quindi che sia nutre che sia gambero rosso della Louisiana o che sia una lontra o una donnola il danno si avrà sempre ma i metodi ci sono e la stessa legge che citavamo prima prevede proprio disciplina l'utilizzo di metodi ecologici prima di passare ai metodi diretti è l'articolo 19 della legge 157 92 tra i metodi ecologici efficaci ci sono le reti antinutri antigambero che già in Lombardia e in Emilia Romagna vengono utilizzate in modo efficace quindi Samole tu ti auguri che anche in Italia la nutria diventi un animale d'affezione come succede in altri paesi potrebbe essere un metodo di contenimento ecologico però l'idea e la cosa migliore in questi casi dato che si tratta di fauna selvatica è quella di rispettarla nel proprio ambiente